Ancora non è ufficialmente sport olimpico ma il cheerleading sta prendendo sempre più piede e anche con belle soddisfazioni. Mettendo insieme ginnastica, danza e acrobazia questa disciplina realizza coreografie per incoraggiare le squadre sui campi di gioco. Tra le società più attive che portano avanti allenamenti e gare c'è il titanium cheer and dance che opera nelle sedi di Stroppari di Tezze sul Prenta e di San Giuseppe di Cassola. Nei giorni scorsi gym and cheer titanium sono diventati campioni d'Italia portando a casa in tutto quattro medaglie dal torneo nazionale svoltosi a Bellaria Igea Marina. Un oro per la squadra master, genitori affini over 40, un altro oro per il team senior, un argento per gli uniores e un bronzo per le emergenti senza contare il bellissimo quarto posto dei piccolini di casa al loro debutto nel mondo delle competizioni. Orgogliosi delle performance agli allenatori visto il livello piuttosto alto dei partecipanti. Ai primi di luglio l'appuntamento è in Germania per i campionati europei ma intanto questo sabato 22 si potrà apprezzare lo spettacolo di fine anno nella palestra di Stroppari.